musica ragazzi chi vuole la tisana? mamma mamma ragazzi ragazzi stanno iniziando musica 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 dalla settimana prossima tutti i martedì alle 20 e 30 in diretta facebook dalle pagine del potenza calcio e di ufficio stampa basilicata noi siamo potenza la trasmissione sul potenza per il potenza non mancate e face musica 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 Grazie a tutti.